In questo video vediamo come ottenere delle viste bidimensionali da un oggetto 3D già realizzato in AutoCAD Abbiamo già visto come ottenere questo risultato nello spazio carta, ora ci concentriamo nello spazio modello Il menu interessato lo troviamo nel gruppo modellazione 3D sotto la voce sezione Il comando è geometria piatta Bisogna dire che è fondamentale la vista nella quale noi ci troviamo In quanto AutoCAD farà una radiografia dell'oggetto da questo punto di vista Visualizzando sia gli spigoli in vista che quelli nascosti E qui abbiamo le varie impostazioni da settare per questo comando Vediamole assieme Inserisci come blocco praticamente permette di inserire l'oggetto ricavato all'interno del nostro progetto come un blocco Qui sotto ci dà la possibilità se spuntato di sostituire il blocco esistente con quello appena creato La possibilità di esportare tramite un percorso che possiamo settare in questo punto il nostro blocco Qui sotto invece impostiamo le proprietà delle linee in vista Possiamo decidere il colore Per esempio impostiamo da layer così prenderà il colore dal layer nel quale ci troviamo Tipo di linea manteniamo a continuous visto che sono spigoli in vista Mentre qui possiamo settare le proprietà delle linee che rappresentano gli spigoli nascosti E qui possiamo mettere tranquillamente rosso E tipo di linea impostare per esempio tatteggiata Bene, facendo clic su Crea AutoCAD ci propone le stesse richieste che fa quando inserisce un blocco Ossia innanzitutto il punto di inserimento Lo decidiamo a piacere con un clic con il mouse Poi la seconda richiesta è quella di digitare il fattore di scala X confermiamo 1 Possibilità di dare un fattore di scala anche per Y Manteniamo sempre 1 E infine possiamo cambiare l'angolo di rotazione del nostro oggetto 2D ricavato Manteniamo l'angolo di rotazione Confermiamo 0 per il momento Allora per ritrovare il nostro oggetto dobbiamo allontanarci con lo zoom Vediamo come eventualmente poi correggere questa impostazione Eccolo qui Questo è quello che abbiamo ottenuto Ed è in funzione della vista nella quale noi ci trovavamo Ossia in questo caso vista sonometrica sud-est Vediamo come mai è stato portato così lontano E cerchiamo quindi con alcuni accorgimenti di rendere molto più pratico l'utilizzo di tale comando Primo accorgimento è quello di spostare il nostro oggetto in prossimità dell'origine 00 degli assi cartesiani Questo perché poi avremo immediatamente agganciato al cursore del mouse il risultato E quindi la possibilità di posizionarlo in maniera accurata Facciamo questo spostamento utilizzando il comando sposta Selezioniamo il nostro oggetto Un punto di aggancio E poi siccome abbiamo l'input dinamico attivo Dobbiamo utilizzare il cancelletto davanti alle coordinate 0,0 In questo modo portiamo sicuramente il nostro oggetto 3D nel punto di origine degli assi cartesiani Ecco qui Poi ovviamente vogliamo fare Diciamo estrarre la vista per esempio frontale Quindi ci posizioniamo nella vista frontale in questo modo A questo punto recuperiamo il comando geometria piatta E facciamo crea Come vedete l'estrazione della figura bidimensionale è già agganciata al cursore del mio mouse Ma non basta Posso tranquillamente Grazie Grazie